Finale Coppa Italia 2011, Inter-Palermo, dove acquistare biglietti online. Mancano ancora 17 giorni, ma l'attesa per la finale di Coppa Italia 2011, che vedrà contro Inter e Palermo, sta crescendo esponenzialmente. Ovviamente non è tanto dai tifosi nero-azzurri che arriva questa emozione, essendo abituati a ben altri palcoscenici. I supporter rosa-nero invece vedono in questo 29 maggio l'occasione della vita, la possibilità di conquistare un trofeo per una squadra che, almeno finora, di occasioni ne ha avute veramente poche. Ben 32 anni infatti sono passati all'ultima finale di Coppa, giocata e persa a Napoli contro la Juventus. Prima ancora era stato il Bologna a negare la gioia ai palermitani, che però ora hanno tanta voglia di riscatto. Chi avrà più fame? L'Inter in cerca di rivalza sui cugini rossoneri o il Palermo a secco da così tanto tempo? Certamente il testo tecnico non potrà non contare. L'Inter che arriva a questa finale non è più quella in crisi di inizio stagione. Certo, forse quella di Mourinho sarà stata un'altra cosa per determinazione e convinzione nei propri mezzi, ma anche Leonardo sa il fatto suo. E forse anche lui nutre qualche sentimento di rivalza nei confronti di quella società che l'estate scorsa, dopo averlo tanto coccolato, gli avrebbe dato il ben servito dopo averlo messo in una posizione a lui non gradita. La verità probabilmente non la sapremo mai. Parliamo però di cose concrete, i biglietti. Al momento sia chiaro, non è possibile acquistarli da nessuna parte e se qualcuno ve li dovesse offrire, state molto attenti perché potrebbe essere una truffa. La federazione ha comunicato che le modalità di acquisto verranno rivelate al massimo entro martedì o mercoledì prossimi, quindi prima di allora qualsiasi altra indicazione rischia di essere una bufala. I prezzi li possiamo bene immaginare. Si dovrebbe partire da un minimo di 60 euro per salire fino a più costosi da 500 euro. I superposti da oltre 1000 euro non li consideriamo neanche. Questi, lo ribadiamo, non sono prezzi ufficiali, quindi quelli veri e le disponibilità potrebbero essere ben diverse. Vi informeremo quanto prima, non appena ci saranno comunicazioni e indicazioni di quali siti bisogna consultare. Finale Coppa Italia 2011, Stadio Olimpico Roma, Inter-Palermo, 29 maggio 2011, ore 20.45.